Allora ragazzi miei cari, siamo qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione global per spacchettare insieme, spacchettare proprio vabbè, per vedere nei ticket cosa ci uscirà Ragazzi sto registrando con un microfono che ho comprato su Aliexpress, ho pagato 4 euro wireless Sembra carino, lo sto provando, spero che si senta bene E nulla raga, prima si sentiva un po' di eco, ora no Vabbè, comunque vediamo, allora, vai, facciamo questa multi summon Vai, vediamo un po' Allora, da quel che so qui possono esserci delle LR Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' E raga come microfono non mi sembra malvagio, anche se prima, vi ripeto, ho l'eco Vabbè, allora, vabbè, doppione però, vabbè Ok, 1, raga, teniamo un attimo il conto 2 3 4 5, ok 6, io vi dico vorrei qualche carta del banner 7 8 9 10 Va bene 11 12 13 14 Aprete tutte le carte che si possono buttare A parte le LR 15, credo 16 17 17 18 Vabbè 19 20 21 22 23 24 Ok 25 26 27 28 29 21 Forse è il 30 30 Uh GG, ragazzi, GG GG Eh, piccolo e buono, raga, piccolo e buono Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video Se volete, potete seguirmi su Twitch, vi lascio il link in descrizione E nulla, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video su Tera Composita Talk on Battle Qui sul mio canale YouTube Ciao a tutti Ciao a tutti